Sindaco, si avvicinano i tempi per quanto riguarda la realizzazione del ponte sul fiume Lento? Sì, proprio ieri ho pubblicato dei rendering molto belli del nuovo ponte che stiamo progettando. Abbiamo già fatto la gara della progettazione, quindi c'è un pool di progettisti all'opera. Ieri siamo stati in soprintendenza per i dettagli, per definire i dettagli di quest'opera. Quindi io immagino che per la fine di quest'anno, inizio del prossimo anno, verrà depositato il progetto definitivo e quindi si potrà appaltare quest'opera che sarà un sogno perché oggi la città è divisa in due. La ciclopedonale nord si arresta di fronte al fiume Lento, invece domani verrà collegata da uno splendido ponte all'area portuale che pure sarà aperta e quindi alla pista ciclopedonale sud. Una francavilla che cambia, che progredisce, che guarda al futuro, si realizza quella visione che avevo manifestato ai cittadini. Ora inizia a essere concreta. Vogliamo ricordare che questo ponte verrà costruito con i fondi del Masterplan? Sì, verrà costruito grazie a un finanziamento della Regione Abruzzo per il Bike to Cost, concesso dall'Aggiunta ad Alfonso. Per questo ringrazio il nostro ex governatore, 1.800.000 euro di finanziamento che ci hanno permesso di completare quest'opera che è un'opera molto sentita dalla cittadinanza. Grazie. Grazie.